allora grazie alle persone che sono qui e a quelle che ci stanno seguendo via internet iniziamo questo incontro il colonialismo italiano nei libri di testo che si inserisce nella settimana di riflessioni e iniziative sui crimini e l'eredità del colonialismo italiano che si stanno svolgendo a Roma in questo periodo e che termineranno il 19 febbraio che cos'è il 19 febbraio? è la giornata in cui tanti anni fa vi fu il massacro di 20.000 etiopi ad Addis Abeba e la rete Yekatit che ha organizzato tutta questa settimana in cui ci sono moltissime associazioni e Yekatit vuol dire proprio 19 febbraio ha chiesto di istituire sulla base di una proposta di legge di anni fa che era stata fatta in Parlamento ha chiesto di istituire questa giornata del 19 febbraio come giornata in memoria dei crimini del fascismo italiano ecco in questo quadro la Casa Internazionale delle Donne le associazioni archivia e le sconfinate proponiamo questo incontro che specifica un tema all'interno di questo quadro più generale cioè come è stato trattato nei libri di testo il colonialismo sia prima che durante il fascismo sia nel dopoguerra per arrivare ai giorni nostri si tratta dell'inizio di un lavoro che faremo qui alla Casa Internazionale delle Donne sui libri di testo scolastici e universitari per rilevare omissioni ancora decostruire stereotipi proporre delle alternative cosa ritroviamo nei libri di testo scolastici della fine ottocento prima metà del novecento nel periodo liberale ne parleranno relatrici e relatori e faremo la ricerca su questo certamente fin dal periodo liberale l'insegnamento della storia nei libri di testo tendeva a ricostruire un'identità nazionale dopo l'Unità d'Italia però di cui faceva parte il cosiddetto fardello dell'uomo bianco è un'espressione di Kipling l'uomo bianco che andava in Africa per civilizzare gli inferiori se poi passiamo al fascismo la costruzione della nazione diventa costruzione dell'impero del diritto di un posto al sole la retorica imperiale la retorica del virilismo dell'eroismo e soprattutto del razzismo che ebbe la sua conclamazione lo sappiamo nel manifesto per la difesa della razza e nelle leggi razziali del 38 a scuola e nei libri di testo c'era la cosiddetta didattica imperiale e si recupera anche prima ma in particolare anche nel fascismo quello che era stato definito l'albero delle varietà umane che sarebbe poi l'albero delle razze con al centro l'uomo con al centro l'uomo bianco europeo e sotto come varietà inferiore cinque altre varietà di razze umane dagli indiani ai neri africani e così via poi queste razze perché razze le chiamavano anche se le razze non esistono però così venivano chiamate queste razze poi moltiplicavano però il concetto era questo sempre il primato dell'uomo bianco abbiamo parlato del fascismo e nel dopoguerra l'Italia nel dopoguerra non adò Norimberga cioè non fu processata per i suoi crimini e questo contribuì al silenziamento nel dopoguerra rispetto al passato all'autoassoluzione degli italiani brava gente tra la nostalgia e l'amnesia solo a partire dalla metà degli anni 60 in cui sono ripresi gli studi storici abbiamo il disvelamento di quanto avvenne nelle colonie soprattutto con la pubblicazione dei libri di Angelo del Boca che smontò questo mito degli italiani brava gente cioè dei colonizzatori italiani che erano più buoni degli inglesi dei tedeschi e così via perché in fondo noi abbiamo fatto ponti, strade mentre ammazzavamo invece con liprite intere comunità ecco in quegli anni in cui queste cose riemergono i libri di testo continuano a rimuovere il passato coloniale oppure recepiscono questi nuovi studi punto di domanda del nostro lavoro negli anni 70 ci racconta Gianluca Gabrielli che parlerà dopo di me con un video gli studenti compilavano gli stupidari cioè gli elenchi delle sciocchezze patriotiche sessiste, tradizionaliste, classiste contenute ancora nei libri di testo come è oggi la situazione assumiamo la patologia della nostra storia oppure la nascondiamo oppure lo sottovalutiamo e quale continuità c'è tra la sottovalutazione e il razzismo contemporaneo e come tutto ciò si riflette nei libri di testo attuali ne parleranno appunto le relatrici e i relatori ma tutto ciò sarà oggetto di questo gruppo di lavoro che continuerà qui alla casa solo un accenno al colonialismo italiano raccontato dalle donne un'iniziativa che abbiamo fatto proiettando vari filmati come associazione le sconfinate perché sul colonialismo c'è da fare anche un'indagine di genere ci sono i libri sul madamato cito per tutti una colonia per maschi di Giulietta Stefani c'è da indagare il rapporto tra colonizzatrici bianche e colonizzate fino ad arrivare alla superiorità delle donne occidentali emancipate rispetto alle altre non tanti anni fa c'era un manifesto della Lega in cui si vedeva la donna emancipata in taglier bianca naturalmente e la donna derelita povera con vestiti neri dall'altra parte in contrapposizione e quindi faremo anche questo lavoro di specificazione di genere termino dicendo che per fortuna la storia del colonialismo oggi viene riscritta dai colonizzati lo dice ne scrive Catenina Romeo nel suo libro e la nostra storia la stanno scrivendo scrittrici e scrittori le cui origini familiari risalgono le ex colonie italiane i loro scritti continuano a fornire un contributo prezioso per la decolonizzazione della memoria della cultura e della società italiana ha un contributo prezioso a denunciare il razzismo contemporaneo come eredità del colonialismo a svelare i processi di razionalizzazione che sono alla base della formazione dell'identità nazionale italiana eclatanti episodi di razzismo in questi ultimi anni mostrano come l'Italia non abbia elaborato il colonialismo e il razzismo come momenti fondativi tra gli altri della sua propria identità nazionale e come lo spazio nazionale dicono queste scrittirici e scrittori lo spazio nazionale italiano nell'immaginario si ha sempre e soprattutto uno spazio bianco all'interno del quale i corpi neri hanno un accesso marginale do ora la parola a Gianluca Gabrielli che è un insegnante uno storico ha scritto molti libri sull'argomento che ci parlerà in video da Bologna poi già che ci sono vi dico come sarà l'ordine dei lavori parlerà Ramanur sempre in collegamento Zoom insegnante e scrittrice di origini somale poi invece dal vivo qui ci sarà Antonella Petricone insegnante delle scuole della scuola primaria che fa parte di due associazioni indici paritari e BFRI che parlerà dei libri di testo nella scuola primaria poi Enrica Manna docente di lettere alla scuola secondaria superiore e Beatrice Pisa docente di storia delle donne all'università concluderà il docente universitario ricercatore che ha scritto anche lui i libri sull'argomento Andrea Tappi che ci parlerà da Barcellona quindi mandiamo adesso il video di Gianluca Gabrielli Buonasera buonasera a tutti a tutti sono molto contento di partecipare a questo evento anche se indifferita nel senso che una riunione a scuola mi impediva di essere in diretta con voi per cui grazie alla gentilezza delle organizzatrici dell'evento mi è permesso di partecipare con questo breve filmato brevissimo mi sono occupato in passato ma ancora presente anche se a ritmi più ridotti di storia dell'educazione e in quest'ambito ho provato a scavare nelle stratificazioni dell'immagine delle popolazioni colonizzate e nello stesso tempo nell'immagine dei colonizzatori che hanno circolato sui materiali scolastici degli ultimi 150 anni dico materiali scolastici perché l'ambito è molto ampio non ci sono solo i manuali ma ci sono c'è la narrativa c'è ci sono i giocattoli le copertine di quaderni le figurine l'ambito della costruzione dell'immaginario è estremamente diversificato credo che il filone più profondo che sottostava ad ogni discorso sulle popolazioni extraeuropee almeno fino agli anni 70 del secolo scorso sia stato quello razziale ovviamente tra virgolette la classificazione somatica che era anche intellettuale e morale delle popolazioni del globo con esplicite costruzioni di gerarchie gerarchie di civiltà questa valorizzazione svalorizzazione di gran parte dell'umanità che presideva costantemente le prime pagine dei libri di geografia praticamente costituiva la chiave pseudo-scientifica per giustificare nelle giovani generazioni l'espansionismo e il saccheggio coloniale nel silenzioso discorso e messaggio che veniva articolato nelle tavole delle razze prendeva forza l'idea abberrante di una giustificazione del colonialismo si va e si conquista poiché c'è una differenza biologica di civiltà tra le popolazioni tale idea gerarchizzante non è morta con la caduta del fascismo ma è sopravvissuta fino agli anni settanta durante i quali ha perso di vigore però non è stata vinta attraverso una resa dei conti con il passato coloniale nazionale italiano sul quale per lo più nei manuali si faceva silenzio ma proiettando all'esterno il conflitto parteggiando nelle antologie letterarie per Martin Luther King contro i razzisti statunitensi lo scontro si è attuato lì esternalizzato costruendo quindi in altre giovani generazioni come quelle che oggi hanno la mia età una purezza fittizia fondata sul silenzio rispetto alle conquiste coloniali rispetto alle discriminazioni alle violenze alle teorie e alle leggi sulla razza è mancata nella scuola una rielaborazione critica sul passato coloniale nazionale che ha reso più debole l'antirazzismo declinato al presente negli ultimi anni molti risultati della ricerca storica arrivano sulla pagina dei manuali ma anche ancora se ancora adesso con fatica gli stereotipi tradizionali emergono sempre più raramente tra le immagini destinate all'infanzia anche se anche qui non scompaiono del tutto riemergendo in modi inaspettati e a volte incredibili il numero e la qualità dei ricercatori che si occupano del tema è però cresciuto moltissimo e l'effetto è significativo e importante iniziativa come quella di oggi ci danno la forza per continuare a studiare e a scavare nell'ambito dell'educazione e per stare all'interno della scuola in modo critico e impegnato c'è ancora molto da fare da una parte se ancora bisogna impegnarsi per fare spazio nei manuali di storia alla storia del colonialismo nazionale alla storia critica del colonialismo nazionale non possiamo ignorare che molti e molte dei nostri allievi sono nipoti di colonizzati di altre nazioni per cui il discorso sul colonialismo deve diventare sempre più un discorso sui colonialismi anche aggiornando i background culturali di insegnanti come me dall'altra allo stesso tempo mentre le nostre aule abbiamo detto si arricchiscono di genealogie plurali sia dietro i banchi ma anche progressivamente per fortuna anche dietro le cattedre la lotta al razzismo e la lotta per l'intercultura si giocherà sempre di più nella capacità di costruire relazioni in quelle aule che si sappiano emancipare dalle narrazioni dominanti che sappiano difendersi dai condizionamenti identitari dai condizionamenti culturali cultura intesa come gabbia per costruire il paesaggio del futuro in cui se non cesseranno le censure e gli stereotipi sempre pronti a riemergere che ad essere utilizzati avremo però sempre più sviluppata la capacità di riconoscerli e di contrastarli grazie siamo Gianluca buonasera buonasera a tutti e a tutti sono molto contento di partecipare a questo evento anche se differita nel senso che vado ringraziamo Gianluca già l'ho ringraziato via mail e mi chiedo a Rama se vuole parlare adesso o dopo Antonella Rama non risponde e allora Antonella vieni qua sì scusatemi va bene Antonella sì ma vado io ok sì scusami figurati Ramana allora questo vero Isabella sì di nuovo buon pomeriggio a tutti e tutte io sono Antonella Petricone e come Isabella appunto accennava prima sono partecipo a questo bell'incontro che mi auguro sia il primo di una lunga serie in qualità in due vesti in qualità di docenti di scuola secondaria di primo grado non di primaria mi piacerebbe scusami mi piacerebbe portare anche questa esperienza però non non ce l'ho non ho diciamo non ho mai insegnato nella primaria quindi non non posso dire nulla rispetto a questo però nella scuola secondaria eh che è un luogo che ha uno spazio che ha attraverso da eh relativamente tanto tempo eh è però il mio luogo diciamo il mio luogo di eh il mio osservatorio privilegiato e sono qui anche però nella e quindi sono un insegnante eh di lettere della scuola secondaria di primo grado e faccio parte di un gruppo di docenti che si chiama Indici Paritari eh che si occupa proprio di eh di fare di portare avanti da eh un paio di anni un lavoro sugli stereotipi eh nei libri di testo eh con Indici Paritari ci occupiamo soprattutto di decostruire quelli che sono gli stereotipi sessuali e di genere nei libri di testo e quindi facciamo un grande lavoro insieme ad altre docenti eh attraverso anche una una rete capillare molto proficua che si sta sempre più ingrandendo un grande lavoro di decostruzione di quelli che sono chiaramente eh le omissioni come eh prima accennava anche Isabella eh nei libri le omissioni che hanno a che fare soprattutto con la storia delle donne quindi la mancanza eh di una storia di genere e di una storia delle donne eh nei libri nei manuali e e di conseguenza quindi eh abbiamo a che fare con la ricostruzione di di qualcosa che evidentemente ancora non è eh non c'è nei nei nostri manuali nei nostri testi e e da quello che io riesco adesso a vedere è un discorso appunto trasversale eh non riguarda solamente la scuola secondaria ma riguarda di primo grado ma anche quella di secondo grado l'università poi ce ne parlerà anche meglio Beatrice e e ovviamente non non si può di ehm dissociare il discorso del eh delle questioni di genere nei libri di testo nei manuali da quella che è la questione importante e grande di cui stiamo discutendo oggi che eh ha a che fare con il colonialismo perché se adottiamo come eh come studiose come docenti come maestre eh come insegnanti un'ottica chiaramente ehm postcolonialista e eh un'ottica eh improntata appunto sul rispetto del eh delle questioni di genere non possiamo non attraversare questi ambiti di studio di ricerca di scoperta anche di esperienza tra di noi eh se non attraverso appunto un approccio intersezionale che non può e non deve mancare e e che ahimè eh invece nelle narrazioni ancora oggi eh manca e assente allora come accennavo all'inizio eh in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado io eh mi ritrovo moltissimo a dover fare conti con eh le mancanze e le omissioni un linguaggio che non è un linguaggio rispettoso eh di tutto ciò che appunto noi annoveriamo come un linguaggio che narri e racconti quello che davvero è accaduto e quello che è accaduto alla nostra storia eh nazionale quindi anche alla storia di italiani e di italiane che eh hanno fatto parte del dell'impresa coloniale eh ne sono responsabili ma hanno avuto e hanno tuttora difficoltà ad assumersi questa responsabilità e il riflesso di questo eh è ciò che noi leggiamo oggi nel nei manuali e quindi ciò che noi portiamo anche nelle nelle classi dove il lavoro di un insegnante un insegnante che sia eh sensibile a queste tematiche che abbia anche come dire si assuma la responsabilità di decostruire un discorso egemonico un discorso culturale eh nei termini in cui ce ne parlava appunto anche eh Gianluca prima nel nel video eh è un insegnante che deve eh deve avere a che deve purtroppo manomettere le informazioni che trapelano dal che escono fuori dal dei libri di testo e in qualche modo rei indirizzarle o comunque tradurle in maniera diversa perché altrimenti quello che passa è una cultura eh di ehm stereotipie che chiaramente non raccontano e la complessità del eh dei discorsi che invece noi stiamo cercando di di fare da tempo prima di me tantissime persone tantissime studiosi studiosi storici e storiche complessità appunto che va assolutamente restituita al sapere eh in tutte le sue forme in ogni grado di di scuola e e che cosa di che cosa sto parlando con che cosa abbiamo a che fare io ho portato per proprio per questa occasione una pagina di un libro di storia eh per dare una piccola come dire suggestione di di quello che è la di quella che è la comunicazione oggi eh di alcune tematiche che riguardano appunto il colonialismo eh e che come vi dicevo però è come dire trasversale poi a a tantissime altre questioni che potremmo qui eh aprire ho una una pagina di eh di un libro di storia che racconta ad esempio chiaramente è un piccolo esempio la la guerra di Libia ve ne leggo un pezzettino solo per come dire avere a che fare proprio con materialmente con ciò di cui stiamo parlando nell'età dell'imperialismo anche l'Italia voleva fare la sua parte con una politica espansionistica era la ricerca di prestigio internazionale e pensava di soddisfare le esigenze degli emigranti il governo Giolitti iniziò così una guerra contro l'impero ottomano per il possesso della Tripolitania e della Cirenaica al di là del canale di Sicilia ma i costi elevati e la scarsa produttività di quella terra sollevarono diverse critiche e in definitiva l'Italia con la Libia non concluse un buon affare ecco l'impresa libica viene considerata appunto l'impresa libica italiana nel governo nell'età liberale dell'Italia sotto il governo Giolitti viene considerata un buon affare e questo è uno dei termini una delle espressioni che spesso vengono utilizzate per appunto raccontare un'impresa coloniale che evidentemente avrebbe bisogno di essere nominata raccontata con ben altre parole con ben altre definizioni di un buon affare e questo lavoro però devo dire che non ha non è legato solamente al racconto del colonialismo e dell'imperialismo quindi il periodo anche che nominava prima Isabella diciamo dall'inizio del novecento che poi porterà alla prima guerra mondiale all'impresa poi alla seconda guerra mondiale e quindi alle alle varie imprese coloniali italiane questo è un discorso che parte anche da molto più in là se noi pensiamo a come ancora oggi viene narrata e raccontata e descritta in alcuni libri di storia perché poi non voglio neanche generalizzare cominciano ad esserci negli ultimi anni delle eccezioni rispetto a queste narrazioni se noi pensiamo ad esempio a come viene ancora raccontata la famigerata scoperta dell'America che sappiamo ormai tutti e tutte che non è una scoperta perché non si è trattato di una scoperta ma viene ancora definita come tale nei libri di storia e qual è poi ovviamente il ditemi quando sto andando oltre perché non riesco perché guardo lì e non guardo loro e quindi un pochino mi destabilizza questa cosa di non guardare le persone che sono qui presenti ma il video quindi aiutatemi con i tempi perché potrei esporare e vi stavo dicendo quindi la scoperta dell'America qual è il problema del raccontare una scoperta che non è stata una scoperta innanzitutto la mancanza appunto di un punto di vista non eurocentrico che in qualche modo possa dare voce e possa dare parola anche alle storie di chi quella famosa scoperta l'ha subita su di sé e penso quindi a tutte le popolazioni che sono state sottomesse e che sono state anche eliminate durante quella scoperta che non è stata appunto una scoperta perché le popolazioni americane erano già lì in America da tantissimo tempo e non avevano quindi bisogno di essere eliminate dagli europei in questa scoperta che viene inneggiata come un momento di gloria dei popoli europei che finalmente iniziano le loro esplorazioni e le loro scoperte geografiche ecco tutta questa narrazione viene ancora portata molto come dire sui banchi di scuola come delle imprese importanti che gli europei hanno iniziato a fare e da cui poi chiaramente è seguita tutta la storia che noi conosciamo non c'è nessun accenno spesso nei libri a ciò che invece queste popolazioni appunto hanno vissuto durante il periodo di chiaramente di assoggettamento quindi non c'è la voce dell'altro non c'è la voce dell'altra che rompe questo privilegio chiaramente europeo di raccontare una storia che è unidirezionale e questo è il è il primo problema l'altro grande problema è che a seguire il racconto di una storia di questo tipo viene poi recepita anche man mano che si va avanti nella programmazione della storia viene recepita appunto come un continuum per cui si arriva dalla scoperta dell'America che appunto abbiamo detto non è stata una scoperta ma semmai un'esplorazione si arriva a quelle che sono le imprese coloniali e in particolar modo appunto alle imprese coloniali dell'Italia senza che si continui senza che si abbia una prospettiva divergente quindi un punto di vista altro che metta in discussione il punto di vista dei potenti dei colonizzatori cioè di coloro che l'hanno agita quell'impresa e che hanno però come dire portato morte distruzione uccisione e tutte le cose terribili che conosciamo e che conosciamo perché poi li abbiamo in qualche modo approfondite ed elaborate in momenti diversi eh del dello stare appunto a scuola dove invece è importante che si cominci a ad elaborare questo tipo di eh di contenuti e come diceva eh Gianluca eh come dire se se vogliamo mettere mano a un un immaginario che purtroppo ancora oggi è intriso eh di eh costruzione rispetto alla della costruzione dell'alterità la costruzione dell'altro è ancora molto un immaginario molto intriso di di stereotipi dobbiamo iniziare a fare questo lavoro eh a scuola ed è un lavoro ripeto molto molto faticoso spesso delegato a delle insegnanti o degli insegnanti eh sensibili al tema che eh decidono di parallelamente di portare avanti dei programmi eh di studio paralleli a quelle che sono diciamo le programmazioni eh fatemi passatemi il termine anche se non esistono più i programmi a scuola però a quelle che sono un po' le linee eh guida eh tradizionali eh quindi diciamo che è un lavoro che va anche ad affaticare molto di più la l'operato di un insegnante perché eh oltre al libro di storia che spesso viene preso come esempio ma viene anche come dire ehm preso come modello da superare o comunque in qualche modo da eh rielaborare e decostruire eh gli insegnanti e le insegnanti si devono anche dotare di tutta un'altra serie di strumenti che possano servire appunto a costruire questa narrazione eh più eh corretta più giusta più complessa di quella che è eh la realtà che ha caratterizzato chiaramente il nostro eh la nostra storia e ci sono anche degli esempi positivi eh di libri di testi che cominciano ad avere questo tipo di eh di sensibilità e che quindi cominciano a portare allo scoperto una storia appunto diversa raccontata raccontata scusate in modo diverso e però ecco il lavoro è ancora è ancora molto e io credo che un un momento di confronto come quello di oggi possa davvero diventare un momento prezioso anche di formazione per tutti i colori e tutte coloro che lavorano nell'ambito educativo e nell'ambito scolastico anzi io mi auguro che si possa creare davvero una rete in questo senso di di confronto tra tra soggettività diverse perché è importante poi confrontarsi e capire anche come portare queste parole anche nuove nel nel modo di insegnare nel modo di trasmettere determinati messaggi e come vi dicevo appunto ci sono anche degli esempi positivi io ne ho portato uno oggi qui insieme alla pagina di storia di cui vi ho letto quel piccolo pezzetto dedicato appunto alla guerra alla presentazione della guerra di Libia ho portato anche due fotocopie che ho fatto che ho preso da un libro della Ericsson mi piace nominarlo perché la Ericsson devo dire è una casa editrice che si presta bene a lavorare su alcune tematiche in maniera anche approfondita diversificata attraverso insomma un approccio anche nuovo e anche come dire vario e questo libro è un libro che riguarda la geografia quindi raccontare la geografia mi sembra si chiama il titolo appunto della Ericsson dove c'è un esercizio molto simpatico perché a un certo punto una parte laboratoriale del testo prevede che i ragazzi e le ragazze gli studenti e le studenti lavorino sulla decostruzione del planisfero cioè lavorino sul cercare di adottare appunto un punto di vista diverso e quindi decentrare quello che è uno sguardo provando a immedesimarsi in una dimensione geografica anche altra diversa e quindi ci sono per esempio degli esempi di planisferi che hanno a che fare con sono in una scuola dell'America del Nord e questo è il planisfero che vedo oppure sono in una scuola sudafricana e questo è il planisfero che vedo quindi come può essere importante aiutare anche i ragazzi e le ragazze a cambiare un punto di vista da una prospettiva differente provando a dimmedesimarsi in chiaramente in posizionamenti che sono diversi da quelli che noi abbiamo perché sono gli unici che conosciamo perché sono gli unici che ci vengono raccontati e narrati va bene non voglio prendere altro tempo le cose sono tante però sono molto felice di ascoltare anche le prossime relatrici i prossimi interventi che ci saranno Isabella do la parola a Rama ok Rama ci senti sì grazie grazie infinite a te la parola Rama grazie innanzitutto voglio ringraziare Isabella e Stefania per questo invito a questo importantissimo e molto molto interessante e fondamentale evento allora io sono Rahmanur sono una maestra di scuola primaria invece al contrario della mia collega pensavo che anche tu fossi della scuola primaria e parlassi di qualcosa appunto riguardo il nostro grado di scuola invece siamo di due gradi diversi però le idee credo che siano le stesse sono anche una poetessa e una scrittrice però non posso non dire che sono una persona nera nata in Somalia ma cresciuta qui a Roma oltre a questo sono anche una persona con disabilità motoria elenco le mie intersezionalità perché credo sia importante innanzitutto precisare da quale posizione una persona parli proprio per capire anche ciò che esprimerà e racconterà perché comprendere quello che si racconta da una certa posizione ha un impatto differente a seconda di se chi parla è una persona nera bianca una donna o un uomo insomma non vorrei affrontare argomenti che già sono stati discussi perché per esempio la collega ha già detto delle cose che avevo in mente io quindi mi scuso se ci sarà qualche ripetizione io racconto il mio punto di vista sia di insegnante quindi di maestra di scuola primaria ma anche di ex studentessa che ha un vissuto particolare e un un approccio allo studio e ai manuali che ho usato nella mia carriera scolastica quando ero piccola si parlava poco di società multiculturale multietnica perché eravamo pochi quindi non c'era il pluralismo che invece è presente oggi nelle nostre classi e questa assenza di pluralità ovviamente ha fatto sì che la scuola non si è molto posta alla domanda come accogliere gli alunni stranieri e come strutturare i testi scolastici e quindi non esisteva ancora un concetto così profondo di decolonizzare i saperi e le conoscenze come ha detto prima sia il professor Gabrielli che la collega precedente i nostri testi parlano in modo stereotipato del passato coloniale italiano nei paesi africani ci trasciniamo ancora la ritorica degli italiani brava gente che hanno fatto tanto nei territori occupati sicuramente questo è una parte della della storia italiana che è durata circa 80 anni e che è terminata appunto con la fine della seconda guerra mondiale e la conseguente caduta del regime fascista ma sappiamo benissimo che il colonialismo è precedente all'ascesa del fascismo e non è frutto di questo quindi non possiamo cercare una giustificazione solo e unicamente fascista all'assoggettamento delle colonie la storia del colonialismo italiano e delle prevaricazioni alle popolazioni conquistate è molto più antica ed è proseguita e peggiorata con l'avvento del fascismo non sempre è andato bene anche il proseguo del del no quindi il neocolonialismo ora lo possiamo vedere oppure quello che è accaduto nella guerra civile per esempio in Somalia con la missione Rest of Hope sappiamo insomma benissimo come alcune dinamiche siano andate per quanto riguarda il mio grado di scuola il il programma di storia è vero i programmi non esistono ma ricordo che fino a quasi 15-20 anni fa ancora nella scuola elementare arrivavamo a studiare la seconda guerra mondiale e quindi anche quel periodo del colonialismo ora non studiamo più quella parte di storia paradossalmente però ci ritroviamo ogni anno a ricordare la giornata della memoria e questo ci costringe volenti o nolenti ad affrontare quantomeno il nazifascismo e le persecuzioni agli ebrei e io penso che questo potrebbe essere un momento di riflessione poiché già andiamo a riflettere su atrocità e su persecuzioni ad altre genti ad altre persone forse qui potremmo allargare lo sguardo alla nostra storia italiana e alla conquista al desiderio di creare un impero coloniale solo qui forse possiamo trattare il discorso delle colonie e delle terribili azioni perpetrate alle popolazioni etiopi eritrei somali e libiche ma chi lo fa credo che siamo in pochissimi i docenti a fare una una comparazione con quello che è successo nella storia del colonialismo italiano sappiamo benissimo però che ciò che è successo nelle ex colonie è stato terribile la poca conoscenza di questa parte di storia è molto profonda e questo mi dispiace io l'ho riscontrato purtroppo anche in persone adulte anche in colleghe che non sapevano bene quello che è successo davvero in Etiopia per esempio e mi è capitato di raccontarlo e non mi credevano e l'unica cosa che sapevano appunto era che l'Italia aveva colonizzato quella parte dell'Africa aveva costruito strade palazzi scuole e così via quindi l'idea di una storia che possa rafforzare l'identità nazionale italiana l'idea nata nei secoli passati purtroppo è ancora presente non solo nei testi ma anche in certi pensieri di persone che incontriamo quindi sarebbe necessario quindi che noi adulti per primi facessimo una presa di coscienza per poi poter aiutare i bambini e i ragazzi e le ragazze nello studio della storia e qualche anno fa mi è capitato perché purtroppo succede che queste idee di supremazia di superiorità nei confronti dell'altro che è sempre nero che è sempre scuro che è sempre povero c'è ancora mi è capitato tempo fa per quanto riguarda i testi scolastici e non parlo di manuali di storia ma proprio di sussidiari dei linguaggi c'era un raccontino in questo testo e parlo di due o tre anni fa non di tantissimi anni fa un raccontino che mostrava un bianco in un pentolone che veniva cucinato da una tribù di neri quando feci presente questo questo racconto alla alla collega che aveva creato questo sussidiario lei se ne risentì un pochino e e disse che questo racconto voleva solo far sorridere e che i suoi alunni avevano riso testuali parole i bianchi i neri i gialli e i marroni possiamo definire così bambini indiani e le garantisco che hanno prodotto un concerto di risate multicolori queste sono le testuali parole della collega che mi rispose alla mia mail un altro episodio che invece è accaduto a me come madre di una figlia nera la maestra spiegando la storia dell'evoluzione dell'essere umano le differenze nei bari esseri umani disse che mia figlia era scura di pelle perché lei apparteneva alla razza negroide ecco questo vi fa capire quanto lavoro ancora c'è da fare non solo dal punto di vista dei manuali di storia ma anche proprio di un razzismo interiorizzato che passa di generazione in generazione e quindi se non studiamo la storia ponendoci con spirito critico e analizzando anche questi tipi di problemi facendoci delle domande cercando risposte non riusciremo mai a scardinare quel razzismo frutto di idee colonialiste di questa superiorità del bianco nei confronti del nero se io come docente perpetuo atteggiamenti e comportamenti suprematisti anche nei miei alunni lo faranno lo faranno anche loro e i neri gialli e i marroni che abbiamo nelle nostre aule assimileranno questo modo di pensare non si renderanno conto che anche loro poi subiscono un determinato comportamento razzista quindi troveranno divertente una barzelletta e una vignetta di questo tipo ma se io come docente stigmatizzo e li faccio riflettere tutti i neri e i gialli e i marroni capiranno ma anche i bianchi ovviamente saremo uniti nel rimarcare questi pregiudizi e questi stereotipi saremo uniti e saremo uniti nel superarli ovviamente fermo restando che appunto il colonialismo e il razzismo vanno a braccetto che i nostri testi non sono ancora del tutto adeguati qualche passo come diceva la collega si sta facendo nella stesura di questi manuali e quindi spero che presto avremo veramente tutti a disposizione testi aggiornati con un punto di vista antirazzista e anticolonialista e non solo che si soffermi sugli aspetti economici e militari di quello che è accaduto e anche io come la collega sono andata a vedere un manuale di terza media e anche io ho trovato quello che lei ha trovato e un altro passaggio che mi ha colpito della crudezza e dell'ottica nazionalista è quello sulla sull'aggressione all'Etiopia che pure facendo parte della società delle nazioni ed essendo uno stato indipendente è stata aggredita dal regime mussoliniano e uno dei pezzi che mi ha colpito del testo scolastico era che l'Etiopia militarmente inferiore nulla poté contro le equipaggiatissime forze italiane che non esitarono a piegare il nemico facendo uso di armi chimiche questo è tutto ciò che viene scritto oltre ad altre poche cose su quello che è successo in Etiopia ma sappiamo benissimo che in questo uso di armi chimiche sono morte centinaia di migliaia di civili quindi quando penso alla giornata della memoria le voci dei sopravvissuti che noi celebriamo ogni 27 gennaio penso che in questo periodo di febbraio forse dovremmo avere la possibilità di ascoltare le voci di coloro che Somali Eritrei Etiopi possono raccontare i loro vissuti perché ancora abbiamo testimoni mio nonno è andato a combattere nella guerra di Etiopia era un ascaro e mio padre è nato nel 36 io non sono tanto giovane quindi e quindi testimoni che possano raccontare quello che è avvenuto ne abbiamo così come diceva Stefania abbiamo anche scrittrici e scrittori che possono fare questi collegamenti con la storia che lega paesi come l'Italia alla Somalia all'Eritrea e all'Etiopia abbiamo quindi storie orali e storie scritte quindi pensiamo ai Giabascego Alifara Gabriella Germandi e altri tanti scrittrici e scrittori che provengono da questi luoghi io sono una di loro insomma anche se mi esprimo più attraverso la poesia quindi questo può aiutarci ad arricchire il dibattito e aiutare anche un cambio di registro nei nostri manuali scolastici e nella nostra narrativa questo sarebbe un patrimonio straordinario e porterebbe consapevolezza a tutta la nostra società civile e soprattutto ai nostri figli che crescono in questo nostro paese vi ringrazio per avermi dato la parola spero di aver dato un buon contributo grazie allora ringraziamo Rama dicevo anch'io nell'introduzione che la nostra storia vera la stanno riscrivendo scrittrici e scrittori eh di provenienza dal corno d'Africa o dalla Libia e il loro contributo è prezioso e spero che insieme noi potremo collaborare do ora la parola a Enrica Manna che è docente di lettere in una scuola secondaria superiore e poi a Beatrice Pisa che è docente universitaria di storia delle donne buonasera grazie grazie per l'invito sono molto felice di collaborare sono Enrica Manna di Archivia e appunto noi come Archivia abbiamo qui un lavoro aperto da da mesi da anni forse e dunque in grande sintonia con tutte le persone che mi hanno preceduto non ripeto le premesse il compito che mi è stato assegnato era valutare come viene presentato il colonialismo nei libri di testo della secondaria superiore avendo io insegnato molti decenni di licei e allora comincerei col dire che nuovissimi manuali sono dei prodotti attraenti veramente vivaci colorati e hanno delle caratteristiche editoriali molto raffinate nell'uso della grafica delle immagini della disposizione di box eh riferimenti interdisciplinari cioè ci si aspetterebbe tanto letture critiche approfondimenti addirittura un'edizione del duemilaventidue propone un aggiornamento per la didattica digitale cioè video audio e test a cui si può accedere con lo smartphone se per caso in quella mezz'ora in cui dovremmo ragionare insieme avessero la nostalgia del loro smartphone vabbè allora proviamo a valutare però la presentazione di questo tema che è molto delicato molti addentellati il colonialismo italiano attraverso alcuni esempi di libri pubblicati eh scusate eh diciamo nell'ultimo decennio perché avevo a disposizione eh questi eh tra l'altro che ho salvato ehm forse i migliori ma voglio dire qui le case editrici sono in Audi la Nuova Italia Zanichelli ma anche la 6 di Torino eh parzialmente Rizzoli allora sentite come esempio mi spiace ma mi ha preceduto Antonella però secondo me è fondamentale soffermarsi proprio su quell'impresa di Libia perché sono degli anni decisivi eh avviene in un contesto storico particolare con l'avvento proprio del nazionalismo in tutti gli stati europei quindi allora in tutti i manuali si dà grande spazio a questa retorica dell'alba del novecento nei manifesti è impersonata da una donna con una lampadina sulla testa che annuncia un'epoca di progresso in seguito alle numerose scoperte macchine agricole e tessili telefono telegrafo motori a scoppio di elettrici treni allora ma tutta questa esaltazione aveva conquistato appunto eh tutti i ceti sociali la diffusione del saggio di Artur de Gobinot sull'ineguaglianza delle razze umane stabilisce non si sente mi spiace ehm stabilisce che i popoli che non hanno raggiunto lo stesso livello di civiltà sono condannati a rimanere selvaggi allora raramente però nei libri di testo compare una riflessione a margine che l'affermarsi del nazionalismo e il conseguente razzismo e antisemitismo è in realtà un potenziale elemento autodistruttivo per i paesi europei invece si insiste molto sul fatto che era largamente condivisa la convinzione che la potenza delle nazioni anche e soprattutto di recente unificazione cioè l'Italia e la Germania dovesse essere affermata proprio con la sottomissione e conquista delle terre abitate da popoli arretrati lo stesso Giolitti inizialmente riluttante verso l'espansione coloniale affermava che si trattava di una fatalità storica a cui l'Italia quindi non poteva rinunciare e certo lui non poteva ignorare gli argomenti polemici contro l'inerme italietta da parte del nascente movimento nazionalista né la pressione degli industriali di alcuni gruppi finanziari con in testa il Banco di Roma inoltre doveva tener conto della volontà di riscattare la disfatta di Adua in Abissinia prima ancora quella di Dogali in Eritrea nel 1887 subita da Crispi che per questo si era dovuto dimettere questa esperienza resterà come una macchia a un filo rosso che lega queste prime affermazioni negative del colonialismo italiano alla propaganda che sarà espressa da Mussolini nel discorso del 2 ottobre 1935 dopo la conquista imperiale dell'Etiopia non dobbiamo accontentarci delle scarse briciole del ricco bottino coloniale altrui e siamo contro il cerchio di egoismi che soffocano la nostra vitalità con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni e ora basta eccetera allora beh tornando a Giolitti una volta stabilita l'inevitabilità di quella spedizione che avrebbe dovuto collocare l'Italia la stregua delle grandi potenze che avevano suddiviso l'Africa in propri possedimenti i fatti vengono poi rapidamente esauriti quasi tutti i manuali in poche righe si arriva alla pace di Losanna del 1912 che conferisce il possesso della Tripolitania della Cirenaica all'Italia allora però io vorrei dire qui tra parentesi che proprio al 1912 il Parlamento Italiano respinge la proposta del voto alle donne ma le lotte delle donne per l'emancipazione contro lo sfruttamento del lavoro in fabbrica le rivendicazioni salariali la critica alla società patriarcale Ersilia Maino Anna Kuleshov Anna Maria Mozzoni Camilla Ravera e tante altre non hanno ancora diritto di cittadinanza culturale se non in modo molto marginale eppure già nei primi anni del novecento organizzavano scioperi e proteste infatti è singolare la definizione frequente nei libri del secolo delle donne che rimane poi come un sottotitolo non meglio argomentato ecco a me piacerebbe mettere in relazione quindi tutto questo come conseguenza di una cultura bellicista che si impone e che è chiaramente anche maschilista che si impone proprio con l'urgenza del colonialismo quindi fatalità storica ma anche urgenza per cui tutto il resto naturalmente allora possiamo però notare un'evoluzione nei testi scolastici ma guardate solo negli ultimi anni prima parlavate dei nuovi approfondimenti degli anni sessanta nei libri non penetrano prima dell'ultimo decennio credo in particolare riguardo allo stereotipo del colonialismo definito da sempre più umano secondo il mito autoassolutorio che si è imposto diffusamente questo aggiornamento però vi vorrei raccontare come avviene in modo un po' singolare allora i manuali analizzati all'inizio dell'ultimo decennio non nascondono i limiti le difficoltà per esempio dell'impresa libica ma anche gli errori di valutazione per cui mentre si aspettava di essere accolto dagli arabi come liberatore dall'oppressione turca l'esercito dovette contrastare una caneta guerriglia nelle zone interne riuscendo ad occupare parzialmente solo alcune città costiere tuttavia compaiono alcuni box e riquadri facciamo tre esempi allora uno le operazioni militari in Libia condotte con mezzi moderni per la prima volta telefono telegrafo automobile aeroplano contribuirono a rafforzare le posizioni italiane nel Mediterraneo oppure due l'esercito italiano sperimenta le potenzialità dei nuovi mezzi di ricognizione come fotografie dall'alto e bombardamento impiega due dirigibili aerostati e 28 aerei altri piccoli box infine come esempio vediamo una cartina dal nome altisonante di Geostoria illustra con le frecce le direttrici degli attacchi italiani alla Libia e al Dodecanneso allora la didascalia recita un ruolo importante fu svolto dalla reggia marina che oltre a trasportare le truppe di occupazione contrastò la flotta turca ed effettuò bombardamenti lungo le coste con tanto di basi di partenza di Taranto e Augusta eccetera allora vorrei dire questo solo le docenti e i docenti che con tanta passione e perseveranza riusciranno a persuadere gli alunni e le alunne a leggere gli approfondimenti perché questi ci sono adesso potranno scoprire che appunto recenti lavori di studiosi come Angelo Del Boca ricordiamo il famoso italiani brava gente del 2005 Giorgio Rochard oppure Nicola Labanca altro libro fondamentale Oltremare intitolato così no? vi ricordate D'Annunzio canzoni delle gesta d'Oltremare esaltazione incontrollata allora hanno messo in luce però due aspetti cioè la violenza della conquista e dell'occupazione italiana che avvenne ricorrendo a repressioni brutali metodi spregiudicati deportazioni uccisioni di massa e sottolineano i caratteri razzisti del colonialismo italiano che non fu diverso dagli altri imperialismi sorti alla fine dell'Ottocento perché è stato ricordato a lungo come più bonario no? secondo quello stereotipo ecco però io ho sempre in mente qualche voce dei ragazzi professore ma pure pure l'approfondimento no? perché no? che pure la lettura critica no? e infatti non rientra non fa parte del testo non si riesce a presentare quello che veramente ecco negli auspici appunto di Mara che ho parlato prima allora un'altra lettura critica molto interessante riguardava che poiché la guerriglia rimaneva attiva cioè questi non si volevano convincere a essere sottoposti no? cioè è proprio espresso così no? allora le truppe utilizzarono la forca con sempre maggiore frequenza però sappiamo da un'altra delle letture critiche per esempio Filippo Turati denunciò alla Camera il re afferma che l'acquisto della Libia dà all'Italia una grande lezione di civiltà ma io vedo dappertutto l'ombra della forca protendersi sulla vostra impresa per esempio compare anche la testimonianza del tenente colonnello Gerardo Pantano a proposito di distinti ufficiali che proclamano le teorie reazionarie più feroci come l'utilità della soppressione di tutti gli arabi della Tripolitania e c'è tempo vado salto qualcosa ah ecco va bene allora un passo molto importante mi sembra comunque mi sembra tra le importanti letture critiche sempre comunque un po' a parte ripeto un po' facoltative no abbiamo del 2019 una pagina dello storico Franco Cardini come se l'autore dei libri di testo dicesse vabbè questo lo dice lui no io vi racconto i fatti i fatterelli così in maniera molto ristretta e disimpegnata no allora la lettura riportata quindi di Franco Cardini è intitolata la guerra di Libia i limiti dell'approccio politico e militare italiano e finalmente qui si intravedeva un nodo importante e cioè raffigura gli italiani intanto come impreparati e inconsapevoli la popolazione araba era considerata come pregiudizio apatica e sottomessa mancava ogni esperienza di dialogo con una popolazione di cultura e tradizioni diverse fra gli episodi di incomprensione per la sensibilità locale spicca a livello simbolico l'affissione nelle strade di Tripoli di un manifesto del governatore italiano scritto in arabo con il quale si garantivano ai musulmani la tolleranza religiosa e il rispetto delle proprietà private allora il testo era sormontato da un grande stemma sabaudo nel quale si è capito dopo gli arabi in maggioranza analfabeti riconoscevano con chiarezza la croce cristiana semplicemente comunque passiamo agli anni venti del nuovo secolo perché vedono l'avvento del fascismo quindi l'espansione coloniale sarà incrementata però con la stessa ideologia precedente ancora più esasperata e gli stessi limiti che si è preferito ignorare permettetemi un'altra piccola parentesi allora il 1924 l'anno del delitto del deputato Matteotti è anche quello in cui si registra il più elevato numero di suicidi di donne ormai colpite dalla campagna demografica e di normalizzazione del mondo femminile con la soppressione delle leghe operai e l'esclusione dall'insegnamento dei licei o dalla possibilità di essere dirigenti ma questo pare che le nuove generazioni debbano continuare ad ignorarlo perché questa storia io la utilizzavo con altri strumenti integrativi per esempio il bellissimo di Udi pubblicato dall'Udi romana il circolo la goccia che si chiama viaggio nel novecento delle donne ma secondo voi non dovrebbe stare cioè consistere e stare insieme agli altri argomenti perché la radice è la stessa cioè non amare la conoscenza dell'altro che sia donna che sia nera ebrea eccetera nella maggior parte dei testi riguardo all'aggressione del millenovecentotrentacinque all'Etiopia da parte del regime fascista notiamo che è diffusamente si definita anacronistica che allo stesso tempo però segna l'apice dell'adesione popolare alla politica di Mussolini eh allora eh c'è qualcosa che non va ma no c'è qualcosa che non va da voi va bene allora si riporta con grande retorica a mio parere che si potrebbe anche cominciare ad evitare nei libri di testo no che dite l'accensione dell'entusiasmo per il mito della quarta sponda d'Italia per completare la conquista del corno d'Africa a partire dai possedimenti italiani già acquisiti di Eritrea e Somalia allora troviamo nella didascalia di una fotografia la campagna militare fu condotta con estrema brutalità da parte dei marescialli Badoglio e Graziani che non esitarono a far ricorso ai gas asfissianti e nel testo troviamo a fronte di una guerra condotta con l'utilizzo di aerei carri armati e gas asfissianti le truppe del Negus Ailes e Nassie poterono opporre ben poca resistenza lo diceva giustamente anche prima eh la mia rama allora però comunque in tutti i testi c'è questa frase proprio tutti allora il duce fu proclamato fondatore dell'impero e il re Vittorio Emanuele III imperatore d'Etiopia l'impero italiano in Africa orientale ottenne il riconoscimento questo lo so sono fatti è vero comunque il riconoscimento della comunità internazionale eh un unico piccolo riquadro a corredo di una vignetta possiamo mettere scusa Maria la vignetta scritta la rica no? allora pensate questa questa vignetta eh sì sì deriva no voglio spiegare che cos'è ehm è stata pubblicata era pubblicata sul settimanale per ragazzi il balilla no? eh e diceva la di Tascalia l'intervento italiano in Etiopia si distinse per la sua inedita violenza e ferocia come nel caso del ricorso sistematico ai gas asfessianti alla base vi era anche la convinzione di avere a che fare con individui appartenenti a popoli inferiori soggiugabili attraverso le politiche di controllo più brutali il razzismo colonialista in parte già maturato in età liberale ne era la base ideologica e culturale il meticciato cioè i rapporti intimi tra dominatori e dominanti fu in ogni modo impedito malgrado le suggestioni erotiche precedentemente alimentate nei confonti delle tra virgolette negre viste al pari di merce da usare per i propri piaceri si arrivò ad una politica discriminatoria e segregazionista con l'adozione di norme e rigidi provvedimenti di polizia premessa delle tragiche leggi razziali emanate nel 38 contro gli ebrei e allora qui però ci vogliono appunto integrazioni perché per esempio donne questa è una storia eritrea erminia dell'oro si intitola l'abbandono no donne che hanno vissuto quel periodo e che per esempio raccontano quando arrivavano dall'italia le disinvolte fanciulle inviate dal duce per le necessità e il diletto dei lontani figli della patria soprattutto perché non venissero toccate donne di razze considerate inferiori allora il protagonista non disdegnava qualche rapido incontro con generose ragazze bianche ma preferiva poi tornare alle donne del luogo eccetera oppure oppure le leggi del duce vietavano di andare con donne di razze inferiori e l'uomo che procreava metici poteva venire arrestato e stare in galera da uno a cinque anni dicevano anche che il suo amico avesse un amante eccetera vabbè questi sono e tanto altro allora questo per dire che sì c'è stata un'evoluzione ripeto nei libri di testo delle scuole superiori ma è limitata è tutta contenuta ripeto anche questo è il fondo di una pagina che di solito si guarda distrattamente certo si contano secondo me in una classe le persone a meno che appunto non ci sia una docente talmente appassionata e perseverante che insiste 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 va bene non vi non vi faccio grazie 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 questo tanto non ci sia degna tutto nero allora è appunto allora volevo dire che quella immagine che ha fatto vedere Enrica fa particolarmente impressione perché sembra qualcuno che spruzza il fritt contro degli insetti no? dà questa sensazione è veramente impressionante quella ecco allora come qua molte cose sono state dette quindi forse non è il caso di ripeterla io volevo solamente rimettere a fuoco alcuni punti fondamentali cioè il ruolo di una storiografia che ha iniziato fin dal 1965 del Boc ha iniziato a rivedere la storia del colonialismo poi nel 2004 italiani brava gente Nicola la banca è stato detto ma quello che interessa che ci sono iniziano gli studi sui manuali di storia il primo è la banca col 2003 poi c'è Grazia di Michele nel 2007 poi c'è Gianluca Gabrielli che è il nostro nel 2015 Rovinello questo Domenico Francesco Elia e ci sono cose estremamente fondamentali che vengono messe a punto tra le varie cose sicuramente molte sono state dette è la necessità di non fermarsi a un episodio a mio parere non si può iniziare dalla guerra di Libia né dal fascismo perché che il razzismo italiano prende forma assai prima prende forma con le prime guerre d'Africa ed è qualche cosa adesso io mi sono interrogata è qualcosa io l'ho visto in parallelo con il razzismo antisemita e non mi so saputo dare una risposta chi ha influenzato l'altro però sicuramente sono cose che vanno in parallelo il razzismo cioè la costruzione dell'altro l'altro diverso da te essendo diverso si può disprezzare maltrattare e anche ammazzare questo è quindi la scelta di un approccio secondo me di lungo periodo è l'unico che ci può aiutare a trovare veramente un punto di vista una storia che diviene e che ci spiega tante cose un'altra cosa che io ho trovato molto interessante che hanno messo a fuoco molti di questi che si sono occupati dei libri di storia è che uno non si tiene conto nei libri nei manuali della ricerca storiografica più recente non si tiene conto perché le cose sono state scritte ma non ritornano nei manuali come non ritornano nei manuali tutta l'amplissima produzione delle donne della storiografia delle donne io fino a dieci anni fa non faccio il nome un famosissimo storico siccome io sono stata a scienze politiche trent'anni quarant'anni avevamo vari ehm ehm vari manuali non riportava neanche la data della ehm della prima volta che le donne sono andate alle urne perché non era considerato importante pensate il resto adesso vi devo dire che ehm molti anni più tardi in un manuale molto più recente invece si dice ma si dice in questa forma millenovecento quarantasei che fra l'altro è stata anche la prima volta che le donne hanno votato questa è la messa a fuoco storiografica che i nostri grandi storici dedicano a quello che evidentemente non considerano un elemento periodizzante ecco ehm un altro un'altra cosa che io è stata detta ma insomma credo che vada riproposta che la mancanza di un'elaborazione su quello che è stato il nostro colonialismo e quindi sul razzismo arriva fino ai nostri giorni e interviene a condizionare il nostro atteggiamento nei confronti dei migranti cioè noi sentiamo l'arrivo dei migranti come l'arrivo di un'orda barbarica che è qualche cosa di molto simile no? a quello che si diceva una volta l'orda barbarica quando quando si parlava delle varie battaglie non so in Eritrea in Libia molte delle quali l'esercito italiano ha perso dice ha preso il sopravvento l'onda barbarica e quelli erano dei soldati che difendevano la propria nazione ecco questo diciamo questa mancanza di presa di coscienza di rielaborazione veramente ha portato qualcosa di grave nelle capacità dell'italiano dell'italiana di valutare e gestire l'oggi ma l'oggi odierno ma anche quello meno vicino io non posso fare a meno di ricordare cosa è successo durante la prima guerra mondiale quando la caccia al nemico interno è stato qualche cosa di violentissimo oppure la lotta antitedesca c'era un famoso medico italiano che diceva che le donne tedesche partorivano senza dolore perché erano simili agli animali e che i soldati tedeschi mandavano un odore speciale perché non erano umani come gli altri guardate che questa è interessante come cosa perché proprio questa costruzione dell'altro qualcosa di molto di simile con gli slavi quando c'è stato tutto il dalmatismo la presa di fiume che gli italiani erano tutti nella vittoria mutilata erano evidentemente antislavi anche lì si è costruito un nemico in maniera estremamente forte quindi questo questi nodi fondamentali e poi la mancanza di un'ottica di genere che è quello che mi ha colpito particolarmente Enrica già l'ha sottolineato ma che ha a che vedere cioè tutta questa difficoltà di acquisire le riflessioni che pure si stanno facendo adesso c'è un movimento c'è una organizzazione che sta organizzando questa iniziativa di cui noi facciamo parte che poi ce n'è una parte oggi stesso alla biblioteca di storia moderna e contemporanea ma ci sono libri ci sono convegni ci sono incontri ci sono libri che vengono scritti c'è veramente tanto allora perché non viene recepito e questo è interessante perché allora perché il ruolo italiano in Africa è sminuito considerato minimale residuali è meglio non parlarne abbiamo fatto una brutta figura lasciamo perdere non è importante poi questa è la cosa ecco perché io penso poi veniamo brevemente ai manuali utilizzati nelle università io penso perché l'acquisizione di una coscienza è talmente rivoluzionaria la coscienza contro il razzismo contro il sessismo la impostazione non più eurocentrica è qualcosa che non riusciamo ad acquisire è perché è troppo non so come dire no sarebbe disgregare la società patriarcale come facciamo a disgregare la società patriarcale è una cosa estremamente estremamente difficile scusa non è facile appunto quello volevo dire no ma perché tanto no non è una non è una questa cosa del colonialismo non è una sciocchezza è qualcosa veramente che va alle radici della nostra cultura interiorizzata profondamente fra l'altro da tutti ecco allora velocemente i manuali che si adottano nella nell'università ecco la cosa che ho scoperto leggendo mi sono andata a vedere i programmi allora scienze politiche dove io sono stata a quarant'anni le cate lettere Roma 1 la sapienza poi sono andata a vedere Roma 2 Roma 3 Milano Firenze dico mi vorrei fare un'idea di quello che succede ecco quello che ho scoperto è che per la tra grande maggioranza di programmi universitari non ci sono manuali universitari questa è la cosa forse un pochino paradossale ma forse anche logica no? che cosa che cosa dicono questi programmi? un buon manuale di storia di superiore nei licei no? possibilmente non anteriore al 2010 un buon manuale poi dopo ci mettono il resto chi è interessato un po' dell'Europa poco devo dire la democrazia cristiana le migrazioni la crisi di fino secolo insomma ogni professore mette la parte che lui conosce meglio diciamo mentre il manuale è quello il manuale non è curato questo è il fatto non è un manuale universitario sono i manuali della scuola media superiore allora io come mi dicevo che sono stata a scienze per i miei 50 anni il mio professore aveva invece scritto un manuale lui è un suo collega e l'aveva adottato ed era una cosa bella erta no? una cosa molto ricca questo manuale devo dire che era molto più approfondito riflettuto lui è un professore un professista però soffriva di quelle di quelle insomma prestava il franco a quelle critiche che abbiamo fatto tutti quanti però la cosa che mi interessava dire è che noi l'abbiamo usato per un certo numero di anni quando il professore è andato in pensione nessuno se l'è affinato nessuno l'ha ripreso nessuno neanche lì della sapienza l'ha ripreso e tutti quanti continuano a proporre che cosa io lo devo dire ma è il sabatucci ridotto me lo sono andata a vedere anche noi adesso noi voglio dire lì a scienze politiche storia contemporanea abbiamo il sabatucci ridotto questo l'unico l'unico volume studiato per l'università è stato messo da parte ci sono presi il sabatuccio ridotto beh c'è qualche altro esempio c'è maestro non vi voglio annoiare allora mi sono esaminata questo sabatucci ridotto uno del 2008 e uno del 2019 fammi un po' vedere che cosa quali sono i cambiamenti ecco devo dire che ci sono molte riflessioni interessanti rilevanti sul colonialismo italiano si parla della gas asfessianti massacchi la violenza eccetera certo rimane sempre la difficoltà a mettersi dalla parte di quelle popolazioni rimane sempre la scelta eurocentrica e questa ripeto è una di quelle cose come dicevo difficilissima da superare e quindi non si supera però nel 2008 si parla tantissimo si parla della propaganda che denigra la resistenza degli etiopici l'equazione fra popoli di colore selvaggi la descrizione di un neocolonialismo eurocentico fondata sulla convinzione sulla convinzione della superiorità economica e culturale dell'Occidente quando poi si passa al 2019 che è il testo adottata adottato il testo è sempre Sabatucci di Totto dalla grande guerra d'oggi questo cosa fa? taglia cioè impedisce la continuità l'analisi di quello che è stato il percorso nella storia e in realtà devo dire che c'è molto di meno sul colonialismo pochissimo sull'Italia praticamente forse in parte è necessario perché partendo dalla prima guerra mondiale forse si può anche mettere da parte la guerra di Libia perché ecco praticamente tutto è concentrato sul fascismo mentre invece proprio la novità sarebbe quella di analizzare il percorso di farlo di farlo diventare più vivo in tutti i razzismi io ripeto quello antisemita mi sembra talmente enorme che non si può non si può dimenticare come definizione e costruzione dell'altro da te ecco un'altra un altro tema che non c'è mai io ho insegnato storia dell'interazione europea e vi posso assicurare che nei libri di testi hanno visti parecchi non c'è mai la critica alla eredità coloniale nella costruzione dell'Europa Unita sì c'è un cenno insomma sapete che specialmente la Francia si era portato dietro le terre d'oltremare poi questi diventano ACP cioè diventano quei paesi che del terzo mondo cosiddetto che si cercava di aiutare però tutti gli accordi fatti gli accordi di associazione si chiamavano con questi paesi erano tutti estremamente favorevoli all'Europa e sfavorevoli a quei paesi nonstante poi ci fosse già gli aiuti allo sviluppo perché da una parte si davano gli aiuti dall'altra parte si mettevano dei dazzi che rendeva che affamavano praticamente queste popolazioni e anche i sostegni economici allo sviluppo erano dati solamente per l'agricoltura perché si è impedito lo sviluppo industriale quindi devo dire che questa cosa insomma mi pesa molto questo tema perché credo molto nell'Europa Unita però effettivamente c'è stata questa attitudine questo atteggiamento dell'Europa nei confronti di quella che erano i possedimenti coloniali poi la Francia non mollava diciamo la verità è stata veramente tostissima da questo punto di vista ecco a proposito della dell'entità della critica postcoloniale che io direi devastante vi leggo questo Franz Fanon scriveva fra l'altro negli anni 60 dice l'Europa è letteralmente una creazione del terzo mondo nel senso che il sudore e i cadaveri dei neri degli arabi degli indiani e delle razze gialle hanno sostenuto la sua opulenza guardate che tosta questa cosa no? ma l'ha detto no ma l'ha detto il nostro evidente il dovuto la violenza è tosta non l'ha detto ma i i cadaveri il sangue esatto lo squilibrio economico necessario per la crescita del capitalismo e dell'industria è quello che poi è stato a carico di popoli che erano stati colonizzati ma voglio dire dal mille in Italia parliamo dagli anni 80 dell'ottocento fino ai giorni nostri per cui è veramente un percorso così lungo così pieno di massacri sangue persecuzioni violenze se si legge quello che ha fatto generale Graziani violentissimo che neanche Renzo De Felice ha saputo criticare non ha voluto criticare i famosi gas asfissianti ve lo ricordate la discussione con Montanelli no? che fra l'altro aveva comprato una bambina di 12 anni se ne era portata no? io dicevo i gas asfissianti io non l'ho visto poi dopo del Bocca hanno portato le dimostrazioni di questo ma ci sono delle resistenze che sono che sono veramente dure ecco voglio dire e si capisce perché ecco e poi c'è l'intreccio fra razzismo sessismo che vi vorrei illustrare meglio con queste ecco se è vero che il mondo occidentale si è edificato sullo si manda almeno la prima sullo sfruttamento e la repressione di quello che si definiva il terzo mondo e quindi è in gioco tutta l'identità dell'uomo occidentale questo è il punto perché è un'identità patriarcale perché è costruita sul razzismo si vede? allora c'è la capoccia mia questo è un ufficio postale e lui dice vorrei spedire questo regalo a un mio amico e c'è questa ragazza infatti ragazza seminuta impacchettata che lui vuole spedire come un oggetto no? questa è no? no questo è un altro l'annuncio si vede quella? si 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 vedeva non si vedeva la scritta ma ve l'ho detta noi la vediamo ma noi no però ma l'abbiamo vista in tanti manuali l'abbiamo vista ma ce ne sono altre ecco per esempio questa qui vedi loro sono al mercato vengono vendute al mercato e questi si mettono le mani in tasca per comprarle se stiamo cercando di quadrare giustamente vai ancora giù poi volevo leggere qualche cosa che ha scritto una commentativa ah questa questa dice civilizzazione forza che cominciamo a civilizzarci questo è venuto bianco il bambino frutto ovviamente di questi incontri di cui parlava Enrica no? fra donne locali questi soldati vedi lui come guarda tutto contento e anche la pubblicità del sapore e anche la pubblicità del sapore cito bianco questo vabbè donne guerriali sotto corpo a corpo non posso signor tenente o moglie cioè questa guardate questa rappresentazione di natura erotico sessuale no? di queste così con lo studio con le cose con le dette al vento di giù anche adesso volevo leggere due cose allora questo dice un bel passo molleggiante lei che porta sta cosa in testa qui si vede a stai sovente ma sta in guardia al bravo fante per l'insidia del serpente allora vi volevo leggere questo che dice Sonia Sabelli dice mentre le terre da conquistare subivano un processo di esotizzazione femminilizzazione le donne africane apparivano come un bottino di guerra per i soldati italiani Filippo Tommaso Marinetti descriveva l'Africa come un territorio ricco di ondulazioni femminili no? e le grotte i tukul rastrellati dai soldati come affumicati uteri uteri montani da visitare ginecologicamente e questi sono malati insomma il possesso del corpo delle donne nere coincideva con la conquista del territorio coloniale un territorio vergine da penetrare e la soddisfazione del desiderio maschile coincideva con la vittoria militare del fascismo ecco fin dall'inizio è stata data questa rappresentazione femminizzante e erotizzata delle terre conquistate perché serviva a rassicurare eh il potere maschile ma anche i soldati che dovevano andare lì a fare una guerra e e poi c'è questa descrizione con un misto di attrazione e repulsione perché si attribuiva a queste donne costumi sessuali selvaggi animalesti sfrenati mentre la donna bianca si doveva tenere perché borghesia non si va tenere anni trenta invece la donna nera secondo loro era scatenata quindi c'erano la quinta essenza dell'aberrazione sessuale dell'eccesso questo era il sogno esotico dell'Africa l'aspettativa di incontri erotici fino alla legittimazione dello stupro coloniale e interessante quando vince non so se lo ricordate ma nel 1996 una ragazza bellissima italiana però nata nella Repubblica Dominicana vince un concorso di Miss Italia e lì si scatenano i commenti cioè si solleva la questione della colore della pelle della purezza etnica per l'identità nazionale gli italiani notoriamente etnicamente puri che un popolo che è fatto da le più diverse popolazioni e quello italiano ecco il colore della pelle continua a essere percepito come un marco di estranietà alla nazione e evidentemente la mentalità coloniale è ancora viva la scelta di una ragazza esotica come rappresentante del glamour italiano dice il Corriere della Sera ha a che fare poco con l'identità italiana questa ragazza bellissima è descritta come venere nera o gazzella nera guardate questo della gazzella riecheggia la terminologia dell'epoca coloniale la pantera di Santo Domingo no anche bellissima dalla pelle con il cioccolata il suo aspetto sa tanto di giungla e di tropici questa è la manipolazione del corpo delle donne dell'immagine delle donne la femminilizzazione della conquista la penetrazione in terra e vergini che ancora io credo di poter dire non abbiamo superato e fa parte di quella difficoltà di acquisire queste riflessioni come diceva Enrica nel 1912 le donne non potevano votare aggiungo una cosa però c'era è stato dato quello che veniva ancora nel mio libro di testo veniva definito suffragio universale maschile e io l'ho detto al mio professore dico ma scusa ma perché sei maschile e vabbè starva dal capello suffragio universale maschile era definito e vabbè allora dell'universo maschile allora scriviamoci dell'universo maschile perché suffragio universale ma poi voglio dire in seguito queste culture sono rimaste sono rimaste in quello che noi vediamo oggigiorno la violenza contro le donne i femminicidi il fatto che si uccide una donna ogni tre giorni in Italia altrove ben di più ecco tutto questo è ancora nella nostra cultura e ancora va rialaborato grazie nell'ascolto allora Andrea Tappi da Barcellona insieme all'istituto comprensivo di Barcellona ha scritto anche lui vari vari testi diciamo come intervento conclusivo insomma va bene allora vi ringrazio non ho sentito il nome della collega ma mi volevo riallacciare anche a lei Lettrice Pisa eh sì allora io sono sono oltre che uno storico un insegnante un insegnante di lettere ho insegnato adesso sono in congelo sono titolare al liceo di Roma ma ho insegnato per nove anni alla scuola di Barcellona perciò sono qui e anche io insieme a Giuliano Leoni mi sono occupato di manuali insegnatamente di manuali e colonialismo in due riprese lo dico non per così portare acqua al mio molino ma per contribuire evidentemente la prima volta nell'ambito di una pubblicazione di Zapruder il numero di questa rivista di storia conflittuale sociale numero 23 nel 2010 e scrivemmo un articolo con Giuliano Leoni che è un collega che insegna attualmente al liceo Morgani di Roma il cui titolo era significativamente pagine perse che era che appunto ricostruiva in questa in questa monografia ricostruiva l'evoluzione di tutti i manuali ce li siamo visti tutti quanti circa 200 dal 1945 appunto al 2010 la seconda volta che ci siamo occupati e più recentemente quindi dieci anni dopo nel 2020 un più breve articolo su Micromega che invece si chiamava anche questa volta in maniera significativa oltre l'obbrio allora questi due titoli rimandano un cambiamento proverò a fare una rapidissima carrellata riallacciandomi a quello che hanno detto delle colleghe precedentemente e provare a dire poi dopo alla luce appunto di questa seconda ricerca che abbiamo fatto quali secondo noi sono i tre principali problemi dei manuali scolastici ovviamente il discorso sui manuali scolastici sarebbe molto ampio riguarda anche il loro utilizzo ma su questo diciamo non ci soffermiamo questa sera allora ricostruendo molto rapidamente noi quello a cui eravamo arrivati era che sostanzialmente diciamo per tutti gli anni cinquanta ancora il colonialismo viene spunto però chiaramente viene spunto perché viene eliminata tutta la parte nei manuali di storia relativa a tutto il periodo successivo alla prima guerra mondiale insomma non viene riabilitato questo periodo fino al 1960 per un ordine ministeriale e chiaramente la cifra la cifra è ancora esistono ancora i retaggi del colonialismo imperialismo fascista e ma quello che è più interessante a questa prima fase succede diciamo una fase molto più lunga che si prolunga praticamente quasi fino agli anni novanta in cui subentra invece diciamo il paradigma dell'italiano brava gente del colonialismo straccione che è fatto di omissioni prima si citava Cardini e non è un caso che Cardini nel 1977 in un manuale molto diffuso probabilmente è il primo e uno dei pochi fino al 1990 eccetera a denunciare a chiare lettere l'utilizzo dei gas si è detto anche questo e la svolta avviene avviene negli anni novanta avviene negli anni novanta alcune cose sono chiaramente sdoganate ormai non c'è più reticenza rispetto rispetto all'utilizzo dei gas agli aspetti diciamo più 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 atroci del colonialismo italiano e tuttavia rimangono diciamo alcune alcune reticenze cioè i gas benefici ecco un beneficio viene chiamati da da cardini come come abbiamo come abbiamo lavorato noi noi ci siamo dati un metodo non so ci possiamo confrontare il metodo prevede diciamo e l'abbiamo riapplicato anche successivamente nel 2020 prevede intanto la percentuale percentuale di pagine dedicate al colonialismo italiano siamo attorno al 2% siamo attorno al 2% abbiamo poi dopo guardato gli stilemi quindi al lessico in particolare agli argomenti trattati al confronto con la storiografia è una cosa che ci è sembrato molto interessante sul cui ritorno fra un attimo che è quello relativo alla struttura cosa cosa emerge adesso non voglio fare tutta la carrellata dei manuali scolastici dell'analisi che abbiamo fatto potete tranquillamente trovare quell'articolo che ripercorre la storia fino al 2010 lo trovate online basta cliccare Zapruder storie e movimento colonialismo e lo trovate lo potete scaricare tre aspetti importanti ci sono ci sono sembrati quali sono quali sono i limiti il primo limite è appunto una trattazione per così dire spezzettata e discontinua cioè il colonialismo italiano che è così poco trattato stiamo parlando del due per cento è di difficile ricostruzione perché non segue evidentemente una logica interna cioè non c'è la storia del colonialismo italiano ma per ricostruire le vicende del colonialismo italiano bisogna fare dei salti andarsi a ricercare in capitoli che parlano d'altro evidentemente questo primo aspetto e questo primo limite rimanda proprio alla struttura e anche a quelle linee guida che sono state citate prima non esistono diciamo più i programmi ormai da circa vent'anni direi ma sì che esistono delle linee guida e quelle linee guida disegnano in qualche modo anche la struttura dei manuali faccio un esempio per capirci meglio allora si è parlato di Libia continuiamo a parlare di Libia per esempio allora l'esperienza della Libia è una meteora ed è una difficile collocazione la lasciamo in occasione del capitolo su Giolitti negli anni dieci e poi la ritroviamo in quella sulla politica estera del fascismo negli anni trenta in mezzo è possibile che ci siano due o tre capitoli quindi lo studente professore professoressa che vuole ricostruire la storia del colonialismo deve fare questo salto e deve dire a volte fra l'altro ormai sempre più si tende a espungere si tende a trattare il secolo breve quindi insomma si comincia si comincia con la prima guerra mondiale quindi è possibile che lo studente in classe abbia trattato professori studenti insomma abbiano trattato la guerra di Libia nell'anno precedente quindi dovremmo addirittura andare nell'anno precedente questo evidentemente da cosa nasce nasce che ancora tuttavia i manuali hanno un'ottica interna cioè tendono a ricostruire la storia d'Italia e a questa storia d'Italia attaccano diciamo anche le parti sul colonialismo e questo questo è un primo questo è un primo problema quali sono allora i manuali che diciamo in qualche maniera sono migliori rispetto alla trattazione del colonialismo italiano e che in qualche modo ovviano a questa a questo spezzettamento quei manuali che se ne è parlato anche prima inseriscono degli inserti degli inserti specifici di lungo periodo io adesso recuperando questo articolo su Micromega ne posso citare due primo per esempio la violenza italiana in Tripolitana e Cinerica è inserita in un manuale del 2012 nel capitolo su Gioli è un libro del 2012 Feltri Bertarzoni Neri Chiaroscuro 6 Dorino 2012 ed è un buon inserto un buon inserto perché appunto ha il pregio di raccordare eventi anche lontani fra di loro questo è un esempio un altro esempio un altro esempio è per esempio migliore questo è uno dei manuali certamente più diffusi attualmente a scuola il Barbero Barbero e altri la memoria librica della colonizzazione italiana ed è questo inserto ripercorre tutte le fasi delle vicende italo-libbiche da Sharashat fino alla visita di Gheddafi in Italia del 2009 attenzione perché questo discorso della memoria è pure molto importante viene citato in questo inserto per esempio c'è una scheda all'interno di questo inserto è lungo tre o quattro pagine non è una cosa piccola dello scrittore di origine libica Isham Atay il ritorno padri e figli e la terra fra di loro è un libro di queste sono le informazioni che ho trovato su internet dai un occhiale è il Mac che fa come gli fa è il Barbero Barbero è probabilmente no probabilmente allora voi sapete che per misurare la diffusione dei manuali ogni anno il ministero dell'istruzione e a me ora del merito pubblica pubblica una lista pubblica tutti i libri di tutti gli ordini di scuola in tutta Italia diviso per regioni adottati in Italia con relativo prezzo evidentemente lo scopo di questo provvedimento è quella di stare nei detti di spesa da questo io mi sono ricostruito il database e ogni anno poi il ministero lo toglie però il Barbero va da memoria il quarto libro più quarto manuale di storia dell'ultimo anno più diffuso in Italia quindi questa cosa passa arriva nei manuali la collega diceva beh gli inserti non li legge nessuno certo probabilmente non li legge nessuno la parte manualistica lo studente è stato pure in classe lo studente dice dobbiamo leggere pure questo la pagina qui che dobbiamo leggere pure questo chiaro che sta il professore puoi vederlo però questi inserti in qualche modo ovviano altrimenti la narrazione è assolutamente spezzettata va bene la guerra di Libia peraltro normalmente viene inserita nel capitolo nell'ambito della discussione della rispota all'interno del partito socialista si accennava prima a Turati mi pare che si alludesse quindi l'ottica l'ottica è interna l'ottica è assolutamente interna questi inserti invece diluiscono l'arco temporale racchiudendoli in uno spazio limitato e forse hanno hanno questo pregio questo è un primo è un primo problema un primo limite un secondo limite e mi riallaccio qui alle 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 vignette che sono state che sono state proiettate dalle dalle colleghe e bene o male che l'abbiano fatto loro perché io non non l'avevo preparato ed è il limite più ampio che quello che riguarda le così l'iconografia di questi manuali allora primo punto è che nei manuali io adesso parlo di quelli attuali degli ultimi dieci anni o almeno fino al 2020 dove è arrivata la nostra ricerca le immagini sono sempre le stesse le immagini sono sempre le stesse e sono quelle lì ma è vero oltre a questo problema che evidentemente insomma per una delle classi per dei ragazzi abituati molto alla al linguaggio visivo decolonizzare l'immaginario evidentemente rimanda al problema delle vignette e queste vignette sono sempre le stesse non è mai dice sì mai citato la fonte anzi si prestano a didascalie le più disparate cioè quella stessa vignetta che abbiamo visto più volte nei manuali viene riproposta continuamente e ogni volta accompagnata da una didascalia diversa il sabatucci vidotto tanto per dire ma già gli è stato comunicato inserisce in una di queste vignette il termine massacro ora il termine massacro non è un termine neutro evidentemente e qui andiamo al lessico perché da dizionario un massacro è un'altra cosa e utilizzata in questo senso invece presuppone sempre uno sguardo di parte cioè a volte queste lo dico in riferimento a un'altra immagine che spesso avviene che è il quadro di Michele Cammarano del 1896 che è la battaglia di Dogali e lì c'è questa cosa del massacro il massacro degli italiani solo il massacro degli italiani a parte che il massacro sono gli animali e su eccetera l'utilizzo ripetuto ribadito con queste didascalie che a volte sono diciamo di questo tipo si accompagna anche alla mancanza di qualsiasi tipo di riferimento alle fonti storiche cioè qui i manuali non hanno fatto ma non soltanto i manuali italiani anche quelli spagnoli che stiamo guardando adesso l'utilizzo delle fonti iconografiche sono molto carenti non c'è un lavoro sulle fonti va bene queste vignette vengono sparate lì come corredo sono semplici illustrazioni servono soltanto per accompagnare la parte manualistica e sono accompagnate da queste da questi didascalie ma un lavoro sulle fonti è assolutamente assente e invece riteniamo e lo ritengo la insegnante ma anche e soprattutto forse da storico che proprio l'analisi della fonte no sarebbe un buon antidoto un buon dispositivo per così per scongiurare un approccio banale banalizzante alle cose insomma no questo mi pare altrettanto altrettanto ovvio eh il fatto che alcuni manuali abbiano progredito non significa che per esempio lo stesso manuale che citavo prima non non Sabatucci Vidotto ma insomma un altro attribuisce agli etiopi come lingua d'uso l'aramaico e non l'amarico questo in sede di cor ci sono anche queste queste cosette due problemi quindi primo problema è di strutture di organizzazione del testo di non facile soluzione poi forse magari diciamo altro le immagini quindi l'apparato iconografico e poi l'altro problema che in parte è stato accennato che è quello della cancellazione dell'altro qui il discorso è un po' più complesso allora che cosa succede la cancellazione dell'altro la foclusione dell'altro direbbe direbbe Spivak e l'altro non esiste le istituzioni altre le istituzioni dei popoli assoggettati gli etiopi i somali i eritrei eccetera i libici non esistono noi non abbiamo assoluta conoscenza delle istituzioni della società dei costumi la loro memoria non esiste salvo quel unico inserto di cui parlavamo prima non c'è quasi mai anzi direi mai la voce dello storico africano non c'è quasi mai oppure esiste una storiografia questo per dire anche diciamo il confronto con la storiografia non solo quella italiana ma anche ma anche loro questa mancanza e questo problema di spospettiva è la porta diciamo di entrata al problema della trattazione della componente razzista in Africa evidentemente cioè riconoscere l'altro evidentemente è no che qui un antidoto per evitare razzismo allora a proposito di inserti di cui ho parlato bene adesso però devo parlare male di un altro c'è un inserto sempre nel libro di Castronovo Valerio Castronovo che si chiama il razzismo italiano in Abissinia va bene ammirevole introduce un inserto sul razzismo approfondisce questo tema l'insegnante diciamo ravveduto se lo legge e lo così approfondisce con i propri studenti cosa dice immediatamente dopo dice in calcio alla descrizione dell'Itopia conclude di fatto di fatto si avviò quella politica razzista basata sul primato biologico dell'italianità che in seguito avrebbe costituito la premessa delle tragiche leggi razziali emanate nel 38 contro gli ibrei italiani questa frase qui va associata alla collocazione e qui la struttura ancora una volta cioè va associata alla struttura dei manuali o la collocazione dell'ultimo riferimento all'esperienza coloniale italiana cioè quella del fascismo storicamente e cronologicamente è questa e questo capitolo questa parte è immediatamente precedente questo in tutti i manuali direi è immediatamente precedente a quello relativo all'introduzione del nazismo cosa significa questa cosa qui significa che se io colloco questa parte qui subito prima del razzismo si crea un ponte logico il ponte logico è il seguente cioè rimanda evidentemente alla leggi razziali che sono del 38 e queste leggi razziali e diciamo un po' la vulgata anche se a scuola non si dovrebbero coltivare le vulgate sono così diciamo una concessione monopresentate sempre come una concessione di Mussolini a ai le leggi di Norimberga sono del 1935 le leggi razziali sono del 38 l'esperienza italiana in quanto a legislazione razziale ahimè è del 1933 cioè le prime leggi sul madamato e sulla cittadinanza visto che siamo nella casa internazionale delle donne sono del 1933 questo isteron proteron e questa collocazione crea un isteron proteron e questa collocazione immediatamente precedente dell'esperienza coloniale italiana con la dicitura legislaziali immediatamente precedente al nazismo significa che c'è uno spostamento di senso e che rimanda a quello diciamo che la stereografia riconosce come la defascistizzazione del fascismo cioè o più più in generale alla parentizzazione del fascismo cioè il fascismo come il nazismo e come il totalitarismo sono una costituiscono costituirebbero una parentesi in un sviluppo in realtà diciamo molto più ampio viene letto in maniera teleologica la del dello sviluppo occidentale del liberalismo occidentale questa parentizzazione significa che non appartiene alla codice diciamo genetico dell'uomo occidentale liberale eccetera il il razzismo il discorso razzista il problema è che evidentemente evidentemente questo vale pure per il totalitarismo il problema è che non è così cioè le specie lo dicono le esperienze l'esperienza colonale con tutto il carico di assoggettamento con tutto il carico di oppressione eccetera e quindi un atteggiamento razzista evidentemente è molto precedente mi spingerei a dire diciamo da una certa ottica che è insito e consustanziale alla all'imperialismo al capitalismo occidentale questo è un po' quello quello che avviene cioè viene messo in pratica strizzando l'occhio al totalitarismo quello che qualcuno cioè attraverso ha chiamato l'istituzione di Auschwitz come dispositivo di autosoluzione cioè noi siamo buoni ci dobbiamo assolvere semplicemente che c'è esistita una parentesi questa parentesi è collocabile nel corso degli anni 30 in cui poi si è raggiunto diciamo la cantina la cantina della storia io credo che diciamo queste cose che io ho detto in maniera molto molto sintetica è un po' si ricollegano a quello che è stato detto che è stato detto questa sera io ho preso qualche appunto quindi queste vignette l'abbiamo detto problema forse più generale ma che appunto dicevo sfugge un pochino ai propositi di questa di questa serata è l'utilizzo del manuale e qui si apre tutto un discorso insomma non è facile il manuale è un vettore evidentemente di comunicazione però rischiamo di avere un'ottica unidirezionale cioè quello che atterra quello che arriva poi dopo in classe evidentemente dipende molto dalla da come viene da come viene utilizzato certo è che diciamo una decolonizzazione dei manuali nonostante diciamo evidentemente tutto il miglioramento che i manuali nell'arco di 60 anni hanno fatto però insomma questa decolonizzazione dei manuali forse è ora che si faccia non lo so io concluderei o mi avvierei la conclusione dicendo che forse ma su questo esiste un dibattito forse è arrivato il momento in cui i manuali scolastici di tutti i livelli avessero un approccio un approccio globale ma questo evidentemente non lo dico io ed è qualche cosa di molto complicato perché ancora oggi nei manuali italiani come nei manuali di altri stati e di altre nazioni il manuale evidentemente è portatore e contribuisce alla creazione di un'identità nazionale il problema è che questa identità nazionale in un mondo globalizzato rischia molto di poi dopo essere veicolo nella società di atteggiamenti che noi non non riteniamo diciamo ammissibili è evidente mi pare che per dire un altro esempio il termine emeticcio per esempio non c'è quasi mai appunto da un'analisi lessicale il termine emeticcio è praticamente essente ma da mato non c'è mai prima si parlava della polemica di Tra Del Boca celebre polemica Tra Del Boca e Montanelli eh sì però nel manuale cioè ragazzo che esce a 18 anni e probabilmente non non avrà mai più a che fare con la storia quello è l'unico libro di storia che ha letto il manuale forse l'ultimo quindi anche probabilmente l'ultimo sarebbe bene insomma che alcune che alcune cose fossero sdoganate la ricerca storica è andata avanti diciamo si parlava di intersezionalità eh la triplice oppressione classa razza e genere insomma la letteratura postcoloniale ormai lo ha messo lo ha messo al centro della propria indagine ormai da tempo insomma forse questa è la più grande novità della della storiografia negli ultimi negli ultimi anni ecco non lo so io avrei da dire altre cose ma non voglio neanche troppo prendere prendere altro tempo insomma eh forse c'è uno spazio per alcune domande non lo so come vi siate come vi siate organizzate mi interessava in conclusione così individuare tre limiti le questioni iconografiche la eh il problema di struttura cioè difficile di costruire una sì una linea lunga di lungo periodo del del colonialismo italiano perché questo stiamo parlando e questo discorso di questa parentizzazione del fascismo di questo aggancio al totalitarismo di questo aggancio alla Germania di questo aggancio al paradigma di Auschwitz che è in qualche modo autossolutorio va bene non c'è più l'oblio però c'è questa cosa qua noi abbiamo intitolato infatti in questo articolo sul migrame dell'America del duemilaventi oltre l'oblio va bene e questo certamente è una cosa va bene vi ringrazio comunque io spero che sia stato abbastanza chiaro noi ringraziamo moltissimo Andrea e la conclusione di questa di questo incontro sta nel fatto che questo lavoro proseguirà la casa delle donne e spero potremmo avvalerci della tua collaborazione di quella di Gianluca e di di allargare no la qui alla casa delle donne la rete degli insegnanti e più in generale la rete anche di di tutti coloro che hanno affrontato il problema quindi insomma non abbiamo solo iniziato e vi ringraziamo grazie a voi a presto a disposizione a chiudere per l'ora perché c'è c'è stato proprio perentoriamente detto di chiudere o sì ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti